Senta, se lei dovesse preparare un mazzo di fiori per ventura oggi, cosa gli preparerebbe? Faccio dei crisantemi, faccio dei crisantemi, si merita a tutti. Quattro volte campioni del mondo, 18 partecipazioni su 21 tornei, azzurri fuori dai mondiali, non succedeva da 60 anni la delusione dei tifosi. Cosa è mancata a questa nazionale? L'allenatore gli è mancato. Ventura, per me è sbagliato a non sierare innanzitutto il piccolo insieme, con quei legnoni che erano degli svedesi, a fare lanci lunghi scavalcando il centro, significava soltanto dare la palla alla testa di quei capoccioli. Una tristezza ragazzi, dopo 59 anni, 60, l'Italia è uscita fuori un'altra volta. E' rimasto deluso dal fatto che l'Italia è fuori dai mondiali. Io dico a Tavecchio che ci ha messo lui. 2006 campioni del mondo, 2018 fuori dai mondiali. Che cosa è successo in questo lasso di tempo al calcio italiano, secondo lei? Ci stanno troppi listatelli in Italia. Ti avrei portato? Un capitano. Cos'è mancato, secondo lei, a questa nazionale? L'allenatore buono. Ma andiamoli a zappare la terra come facciamo tutti noi, magari in campo rendevano di più. L'allenatore non è buono, è antico, è antico, perché c'è l'allenatore moderni, moderni. Stavolta c'entra la Svezia e Skype ce l'ha fatto a noi, ce l'ha fatto. Beh, devi ricosi singolo Sky TG24.